Tra qualche settimana i parcheggi di Megalò diventeranno a pagamento, sindaco di Primio, una decisione che sta creando qualche polemica, qualche malcontento. Come mai avete deciso di fare tutto questo? Chi si sente non contento e chi vuole fare polemica è libero di farlo ovviamente. Ritengo che l'amministrazione sia altrettanto libera di adottare dei provvedimenti che sono provvedimenti che rientrano nelle proprie competenze e che non vedo perché non scandalizzano quando c'è un'area assosta a pagamento, per esempio nei centri storici. Non vedo perché un'area di proprietà comunale che si trova in quell'area commerciale non possa essere messa a pagamento. Quindi non ci trovo proprio nulla di strano. Ricordo peraltro che a differenza di come succede spesso nelle città dove c'è penura di parcheggi, in quell'area abbiamo quasi 3.000 posti auto. Se gli 800 posti auto del comune vengono messi a pagamento è una cosa che è nelle corde delle possibilità dell'amministrazione, lo ha deciso anche il TAR che è possibile che si faccia e quindi non trovo proprio nulla di strano che ciò avvenga. Le tariffe tra l'altro non saranno particolarmente onerose e quindi non peseranno più di tanto su chi decide di andare a fare i propri acquisti o di recarsi a megalò per altri motivi. Allo stesso tempo chiedo a quelle persone che oggi tanto si scandalizzano, perché non si scandalizzano quando ci sono parcheggi a pagamento in tutte le parti d'Italia, in tutte le città d'Italia e soprattutto nei centri storici. Quando diventerà esecutivo il provvedimento e quanto si pagherà? Stiamo provvedendo adesso a definire sia le tariffe che l'affidamento. L'affidamento sarà fatto in gestione in house, cioè direttamente con una nostra società. Dobbiamo ancora definire se l'affidamento verrà fatto per il tramite di Chieti Solidale, che è un ente strumentale del comune, o teatri servizi, che è una società partecipata dal comune e le tariffe ovviamente terranno conto del fatto che lì si tratta di una lunga sosta e non c'è necessità di quel ricambio che invece viene richiesto nei centri storici.